Treglio, Treglie in Abruzzese, è un comune della provincia di Chieti, i cui abitanti sono detti tregliesi. Fa parte dell'unione dei comuni Città della Frentania e Costa dei Trabocchi. Treglio è un paesino che si estende su un territorio di 4 km2, in una fascia sviluppatasi su tre colli, che digrada dolcemente verso il mare, distante 5 km dalla località balneare San Vito Marina. La sua altimetria è di 183 metri sul livello del mare. La parte più antica della città è costituita dal centro cittadino posta sul collo centrale, mentre le sue contrade, Sacchetti e Paglieroni, nate nell'Ottocento e sviluppatesi agli inizi del Novecento, sono situate sugli altri due colli. Il nome del paese deriva dal personale latino Trellus, che risale al 1100 e 1200. Come molti paesi del circondario, fu feudo della abbazia di San Giovanni in Venere. Menzionato come Santa Maria in Grotta Trinia, viene citato come possedimento di un'abbazia in una bolla pontificia di Papa Alessandro III nel 1173, successivamente in una bolla del 1204 di Papa Innocenzo III. Insieme alla Chiesa viene citato anche il casale di Santa Maria di Treglio. Nel 1320 il casale appare confermato dal re Roberto all'abbate di San Giovanni in Venere, casale successivamente saccheggiato dai lancianesi per rivaleggiamenti con l'abbate. Successivamente il paese seguì le vicende storiche di Lanciano. Nel 1807, durante il regno di Gioacchino Miurà, venne istituito il comune delle ville di Lanciano, con la fusione di Treglio con altri paesi, che poi nel 1816, alla caduta di Miurà, riacquistarono la loro autonomia. Con inizio il sabato e la domenica della prima settimana di novembre e successivamente in quelli della seconda di ogni anno si tiene il borgo rurale, ovvero la festa del vino novello, castagne e olio nuovo, caratterizzata dall'allestimento nel centro storico di Treglio di cantine e contadine tipiche di un tempo e dalla degustazione di vino novello, olio nuovo, castagne e piatti tipici della frentania. E durante la festa è possibile ascoltare musica dal vivo di vario genere tra i vicoli del paese. L'obiettivo che cerca di raggiungere il borgo rurale è quello di far conoscere il mondo dei contadini e degli agricoltori a quello turistico, consentendo alle aziende agricole ed artigianali, di offrire ai turisti le prelibatezze tipiche della frentania e di far conoscere questa parte dell'Abruzzo.